Ciao a tutti, come state? Spero tutto 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 bene. Benvenuti o bentornati sul mio canale ASMR, io sono Marco Luisi e quest'oggi vi propongo un video molto particolare perché andremo a togliere assieme queste unghie nere, questo smalto, le unghie, che mi sono fatto a fare per un'occasione speciale. E appunto andremo a toglierle in diretta. È smalto ibrido che di solito con questo smalto dovrebbero durare più o meno tre settimane le unghie e però ho la necessità di toglierle, quindi in questo video le andremo a togliere assieme. Qui con me ho questo acetone che ci aiuterà nell'impresa. Ne è rimasto poco, però basta per quello che devo fare. E qui con me ho questi dischetti che andremo ad utilizzare per togliere il nostro smalto nero dalle unghie. Procediamo subito a prendere i dischetti. Ne prendiamo un paio per ora. Ci facciamo qualche trickrino. a prendere i dischetti. a prendere i dischetti. a prendere i dischetti. iscritto al canale puoi farlo gratuitamente cliccando su iscriviti e se ti va puoi lasciare anche un pollice in su sotto a questo video grazie iscriviti al canale ne mettiamo un po' sul nostro dischettino in questo modo e procediamo cominciamo con il mignolo piano piano stiamo togliendo lo smalto però devo dirvi che è molto molto difficile da togliere molto complicato mettiamo un altro po' di aceto né www.mesmerism.it Grazie a tutti. devo andare ad utilizzare questo attrezzo perché sennò davvero non ce la faccio a toglierli a togliere lo smalto sinceramente non so quanto giusto sia quello che sto facendo in questo momento spero di non andarmi a rovinare troppo le unghie però cerco di essere delicato piano piano ci sto riuscendo adesso mettiamo un altro po' di acetone mi sto concentrando scusatemi un altro po' di acetone un altro po' di acetone un altro po' di acetone morale della favola fallimento assoluto alla fine mi sono arreso sono andato da mia madre e le ho chiesto se per favore mi poteva dare una mano quindi le ha preso un non lo so come si chiama un coso elettrico che ha fatto e abbiamo fatto così perché non ne potevo più sinceramente era troppo 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 difficile mi sono rimasti questi resti e quindi scusate però ho perso la pazienza questo video è stato fallimento toglierò adesso il resto con con questo coso ecco oggi non è giornata per fare video però ormai ormai lo lo registro e lo pubblico scusate maledetto smalto impossibile da rimuovere ma come fate voi ragazze o ragazzi ma di solito sono le ragazze quelle che si fanno le unghie più spesso più comunemente come fate voi ma come fate mamma mia dove trovate la voglia per fare queste cose e il tempo poi poi si fa un casino con sta roba mamma mia mamma mia come fate spiegatevelo per favore io non ne posso più il bello è che ho tutto convinto dai 5 minuti togliamo tutto buonanotte mamma mia che fallimento non è possibile non è possibile non è possibile non è possibile quanto è duro questo smalto mamma mia cioè infattibile davvero infattibile maledetto smalto non ce la posso fare davvero non ce la posso fare penso che andrò direttamente a mettere le unghie in ammollo e le lascerò lì poi se voi avete consigli fatemi sapere perché io sono super inesperto di queste cose e boh non so fatemi sapere se avete qualche consiglio perché io sono super spadato super spadato magari la prossima volta opterò per delle unghie trasparenti perché il problema qual è? allora io potevo lasciarle anche così però domani ho una visita dalla dottoressa e sinceramente ancora mi vergogno un po' quindi ho deciso di toglierle per questo questa occasione perché appunto mi vergogno un po' e e quindi ho deciso così sono ancora un po' timido su questa questione ma spero mi mi passi spero mi passi ecco ci devo fare l'abitudine vabbè io spero che almeno vi abbia rilassato un po' anche se non penso perché è stato un parto un orrore una tortura vedere me togliere lo smalto che poi non è neanche riuscito molto bene quindi almeno spero vi siete fatti una risata e niente io vi auguro una meravigliosa 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 notte o una splendida splendida giornata vi mando un grande grande bacio un forte forte abbraccio e niente ricordo che se volete potete iscrivervi lasciare un mi piace a questo video o supportarmi con una donazione sotto a questo video altrimenti c'è anche l'opzione abbonati al canale per ricevere vantaggi esclusivi e noi ci vediamo con un prossimo video magari ben riuscito vedremo vedremo ciao a tutti ciao ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti